Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una base che è perfetta per la stagione calda in cui siamo, ma forse è ancora di più per il caldo che è in arrivo. Infatti voglio farvi vedere come realizzare una base che sia veloce e fresca, ma che comunque ci faccia sentire a posto, che vada magari ad uniformare un po' il colore della pelle. In tanti quando arriva questo periodo mi iniziate a dire Giulia, io il fondotinta non lo utilizzo più, ma in realtà è semplicemente che potreste cambiare il tipo di prodotto che utilizzate. Quindi andare comunque ad uniformare il colore della pelle, a opacizzare il viso, che è fondamentale in questa stagione in cui fa caldo, sudiamo e tendiamo a lucidarci. E non mi ricordo come al solito che cosa mi stavo dicendo, comunque iniziamo subito senza chiacchierare due ore come sempre. Primissima cosa, è fondamentale l'applicazione di una protezione solare, già dovremo farlo tutto l'anno in questo periodo in cui fa più caldo e in cui tendiamo a stare molto più tempo sotto al sole. Al sole è ancora più importante. Ricordatevi di metterne una bella quantità sul viso, sulle orecchie, nella zona del collo e décolleté e ovunque la pelle è scoperta. Adesso fuori è quasi sera, quindi per il momento mi fermo qui nella zona del viso. Oggi andremo a lavorare parecchio con le polveri, non appliceremo cioè un fondotinta liquido. Quindi è fondamentale che prima di utilizzare le polveri io mi vada ad utilizzare tutti i miei prodotti in crema, come quello che può essere il correttore. Se avete bisogno di coprire le occhiaie appunto con un correttore cremoso, magari avete delle piccole imperfezioni, delle bollicine che volete coprire con il correttore, questo è il momento giusto per farlo. Piccolo consiglio, ricordatevi comunque che la base che realizzeremo sarà abbastanza leggera. Di conseguenza cerchiamo di non avere una zona del contorno occhi con un correttore che sia molto pesante per evitare che si veda lo stacco dal correttore molto coprente alla base che invece è molto leggera. In questo caso io mi applico un po' di correttore con il pennello e poi me lo vado a stendere con il calore del polpastrello su tutta la zona su cui voglio metterlo. Dato che oggi lavoreremo con un fondotinta in polvere, quindi una polvere che comunque ha un po' di pigmento, dobbiamo prima andare ad asciugare tutti i prodotti che eventualmente sono rimasti cremosini sul viso, altrimenti rischeremo di creare delle macchie, delle zone in cui il prodotto si accumula di più e altre in cui si accumula di meno. Prima di applicare il fondotinta mi vado ad asciugare tutta la base con una cipria. Mi vado a fissare il mio correttore con un pennellino abbastanza piccolino, magari me lo stendo ancora meglio con il calore del polpastrello e poi ci vado sopra con il pennello con un pizzico di cipria. Non deve essere nulla di eccessivo ma questo step è fondamentale proprio per andare ad opacizzare e a creare una base su cui possiamo facilmente applicare il nostro fondotinta in polvere. Mi prendo un pizzico di cipria e me la stendo su tutto tutto il viso. Ora possiamo passare al fondotinta vero e proprio, quello che utilizzerò io oggi sarà un fondotinta minerale di Neve Cosmetics, questo si chiama Eye Coverage Mineral Foundation ed è appunto un fondotinta in polvere minerale. Il colore che utilizzo io è Light Neutral e vi ricordo che sul sito di Neve Cosmetics avete sempre il codice del 10% che è valido anche sui prodotti già scontati. Me lo vado a mettere un po' così nel tappino e utilizzo questo pennello che è il Buffing Brush di Real Techniques. Se non avete un pennello del genere per l'applicazione del fondotinta anche Neve ha un flat kabuki tipo questo, io al momento non ce l'ho quindi mi vado ad utilizzare lui. Mi prendo un po' di fondotinta così dal tappino e me lo vado a stendere su tutto il viso grazie al mio pennellone. Deve essere una buona via di mezzo tra un pennello morbido e un pennello rigido. Faccio dei movimenti circolari e mi vado a pressare tutto il fondotinta sulla pelle. Voglio ricordarvi che comunque un fondotinta minerale o in polvere non vi darà mai la coprenza che vi dà un fondotinta liquido, però al contrario rimane molto molto leggero e soprattutto fresco per una stagione così calda in cui magari non vogliamo applicare troppi prodotti sul viso. Questo qui serve proprio per andare ad opacizzare, ad uniformare un po' il colore perché vedete che le varie discromie si sono uniformate. Se siete di quelle persone che mi dicono io in estate preferisco non applicare il fondotinta ma comunque mi piacerebbe avere un colore più uniforme, questa potrebbe essere proprio la base perfetta per voi. Un'altra cosa molto carina nell'usare un fondotinta in polvere è che durante la giornata se tendete a lucidarvi potete comunque tornare con il vostro fondotinta e andare ad opacizzare il viso o a fare eventuali ritocchi. Oppure se siete in giro e vi rimane scomodo portare un fondotinta in polvere tipo questo, ho un'altra alternativa di Neve Cosmetics che è il fondotinta che in realtà io utilizzo come una cipria proprio per fare i ritocchi durante la giornata. Io utilizzo questo qui che è il Flat Perfection e me lo vado a prendere con il pennello con cui applico la cipria oppure con un pennello che sia un pochino più compatto e lo utilizzo così per pressarlo al centro del viso per fare i ritocchi durante la giornata. So che in tanti vi starete chiedendo ma devo utilizzare anche la cipria dopo il fondotinta minerale? In questo caso noi abbiamo già asciugato la base prima, però se sentite il bisogno di utilizzare la cipria anche dopo perché la vostra pelle è particolarmente grassa potreste provare. Dipende tantissimo anche dal tipo di fondotinta che state utilizzando, questo in particolare risulta abbastanza opaco già di suo quindi non sento il bisogno di applicare anche una cipria sopra. Però mi è capitato in passato di provare un fondotinta minerale, quello di Bare Minerals, che durante la giornata comunque tendeva a lucidarsi un pochino. In quel caso vi consiglierei di utilizzare anche la cipria o subito dopo il fondotinta o comunque durante la giornata mano a mano che la vostra pelle si lucida. Quindi la risposta a questa domanda è dipende da tanti fattori, in primis il tipo di prodotto che utilizzate e dalla vostra pelle. A questo punto potete decidere di proseguire come più preferite, io vi consiglio comunque un pizzico di blush o di terra di applicarlo perché comunque il fondotinta va a togliere un po' le ombre del viso come tutti i fondotinta del mondo. Potete realizzare le sopracciglia, mettere magari solo un gel fissante se volete qualcosa di molto veloce, se siete in vacanza, potete fare un trucco degli occhi un pochino più elaborato o qualcosa di più semplice. E questo è il make-up finito, come vedete anche se la nostra base è molto molto leggera, possiamo comunque divertirci a caricare un pochino di più il trucco sugli occhi oppure giocare con un colore acceso sulle labbra come ho fatto io in questo caso. Non vi lasciate spaventare dal caldo, magari approfittate proprio per sperimentare e giocare con qualche colore che nel periodo invernale vi intimorisce. Adesso è molto più facile sentirsi a proprio agio con colori più accesi e rossetti sgargianti. Ma quanto è bello il colore di questa matita, mi piace veramente tantissimo. È la prima volta che lo indosso e devo dirvi anche che è completamente waterproof e super asciutta. Guardate un po'. Non si stampa assolutamente nulla, mi piace tantissimo la formulazione di queste matite perché si possono indossare anche con le mascherine senza che si stampino su di essi oppure vi togliete la mascherina e avete il rossetto un po' sbavato intorno. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se questa base e quello che vi ho fatto vedere in questo video vi è piaciuto, vi sarà utile o comunque lo replicherete. Ricordatevi di lasciarmi un pochino di amore con un pollice all'inzu, un cuoricino oppure iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimo nel prossimo video. Ciao!